Presentato al Centro Commerciale Mongolfiera di Bari Santa Caterina il progetto Gira il Libro. Sentiamo. Uno spazio dedicato completamente al book sharing si chiama Gira il Libro ed è la nuova interessante iniziativa culturale del Centro Commerciale Mongolfiera Bari Santa Caterina in collaborazione con l'Associazione Culturale Bande Rumorose partita da qualche settimana nell'Eppi Area che consente di depositare, donare e scambiare libri di ogni genere e tipo riscoprendo così il piacere della buona lettura. Il progetto di promozione del piacere della lettura si rivolge a tutti appassionati e semplici curiosi ed è utile tanto per i più piccoli quanto per i più grandi. È possibile quindi depositare all'interno di un grande raccoglitore i libri da donare. Il progetto è stato presentato a Bari nel corso di una conferenza stampa nell'Eppi Area del Centro Commerciale Mongolfiera da Maria Teresa Masciopinto, direttore del Centro Commerciale, Michele Magno, presidente dell'Associazione Culturale Bande Rumorose e Gaetano Ventura, presidente del distretto sociale Puglia, centro di Coppa Alleanza 3.0. Un'iniziativa dunque basata sulla pratica del dono, spiega Maria Teresa Masciopinto, dello scambio e della condivisione di testi e cultura che evita che libri, una volta letti, restino inutilizzati nelle librerie delle nostre case. Nasce dalla volontà di far diventare il Centro Commerciale Mongolfia di Bari Santa Caterina un contenitore di eventi culturali. Non meramente il Centro Commerciale è un luogo di aggregazione e si può cogliere questa sua caratteristica per portare avanti iniziative che non abbiano solo un carattere di intrattenimento ma anche culturale. Un luogo di aggregazione, un punto di riferimento per la cultura sul territorio. Questo è il primo di una serie di iniziative dedicate alla cultura. Il primo aprile partiremo anche con il venerdì letterario una serie di incontri dedicati agli autori locali di presentazione dei propri testi. Quest'iniziativa è basata sulla pratica del dono che è una pratica dove c'è la piena libertà della persona di voler dare qualcosa agli altri e allo stesso tempo anche di riceverla perché qui si effettua uno scambio, una condivisione dei libri. Noi chiediamo possibilmente che poi questi libri possano continuare a circolare che magari non li si lascia in casa abbandonati a se stessi perché questo è lo scopo dell'iniziativa.